so che la situazione sembra tragica ma fidatevi è molto peggio di quello che credete saliti a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video allora mentre provo a non cadere in mezzo a questo casino oggi vi porto a spasso nella mia cucina no in realtà oggi voglio farvi vedere l'ultimo progetto pazzo che mi è venuto in mente perché l'ho fatto non lo so e ragazzi se volete altri progetti del genere di rinnovamento non so che altro perché in realtà non voglio rinnovare niente però voi mettete like lo stesso allora sappiate che io non voglio farlo non voglio farlo non voglio fare nient'altro ma se mettete like a sto video e arriviamo a un numero alto di like rifarò qualcos'altro anche se non ho nessuna voglia di farlo comunque oggi partiamo da questa cosa ah ovviamente iscrivetevi al canale perché come vedete lì c'è montato non so se lo notate un Mac Air M1 eccetera eccetera cosa starà a fare lì ve lo spiegherò tra poco ma poi capirei cosa ci voglio fare lunedì 27 però sto video penso che è scato non lo so quando esce sto video uscirà anche il video su pc peggiori del mondo treviso se non l'avete visto andatevelo a vedere immediatamente però qua cosa diavolo sto facendo e perché sto così allora in realtà la colpa di tutto è di questo quello lì lo vedete cioè voi adesso lo so che a voi vi sembra soltanto un monitor ma lui in realtà è un colpevole ok perché questo perché come vedete questa qua è la mia scrivania la flexi spot che tra l'altro avete visto già in un altro video questa qua solitamente è la mia postazione dove io sto più tempo si solitamente è incasinata ma non fino a sto livello quindi adesso vedete anche una full postazione sad di tec ciao fieric salutiamo anche ric allora praticamente cosa succede qui nonostante la scrivania sia bella grande non so se è un metro ottanta due metri comunque grande come vedete il pc che praticamente questo qua l'avete visto nell'ultimo video con la di linux ah il pc non lo tocco più lo cambierò non stiamo per cambiare però va bene il pc un monitor due monitor questo è 27 quello è 28 e non c'è da più un monitor a me ne servono tre che è quello il terzo che in realtà stava al posto di questo però perché mi serve un monitor 4k perché semplicemente adesso con il nuovo sistema praticamente che mi sono inventato io che adesso vi faccio vedere per avere diciamo i video la linea video ovunque praticamente con quello switch lì vedete questo qua sotto non quello sotto l'elgato poi vi spiego a che serve l'elgato praticamente quello switch lì mi fa comandare 4 pc che ho in casa ok in realtà sono 5 perché poi lì c'è un altro switch però ci arriviamo dopo a quello e praticamente insomma controllo 4 pc con quello switch e con un monitor e con lo stesso mouse e tastiera che mi sono accorto che è infinitamente scomodo se questo qui diciamo fa parte del suo setup principale perché vuol dire che ogni volta che io utilizzo questo praticamente sto pc non lo posso usare quindi dovrò inventarmi qualcos'altro forse qua metterò un altro mouse e un'altra tastiera apposta per quello attaccare rettamente al mouse non lo so ok non lo so allora mi leva il cappuccio anche se in realtà è una buona idea visto in che condizioni ho i capelli che è orribile allora praticamente mamma mia che casino praticamente quindi che succede devo fare spazio sulla scrivania e questa qui è la prima parte complicata perché? perché diciamo che nonostante io fare lo spazio sulla scrivania non sono ancora sicuro se c'entranno 3 monitor spero di sì soprattutto non avrò più posto per mettere le casse che sono lì che adesso in questo momento sono appoggiate lì e soprattutto dovrò anche studiare un momento per mettere la fotocamera che al momento è appoggiata qui sopra come vedete questa qui mi riprende per lo streaming e poi dall'altro ci faccio anche video eccetera quindi comunque insomma va studiato anche sta cosa qui per fare tutto questo qual è l'idea che mi viene in mente? potrei prendere il case lanciarlo di sotto metterlo da un'altra parte e semplicemente allungare i cavi eccetera eccetera perché non andare a complicarsi la vita? è molto più bello complicarsi la vita come mi sono complicato la vita con questo che cos'è sto robo? e perché è qui? allora dovete sapere che voi in realtà un case del genere l'avete già visto perché praticamente questo qui è un case da server è un case 4U che utilizzo già per esempio su serverone qui dentro praticamente c'è sia la macchia da rendering sia serverone in due case simili questo qui perché io e Ale siamo riusciti a prendere 4 di case prendi di case da server 4U a tipo no 5 case siamo presi tipo 170 euro che è pochissimo perché solitamente soltanto uno di questi ti costa bon 200 euro e dentro c'era anche una marea di roba che ci ho tolto e in più ho comprato le rail perché adesso c'ho le rail? perché la mia idea qual è? la mia idea è che se devo avere spazio sulla scrivania il pc deve stare sotto ma non lo voglio sotto lo voglio sotto ha sempre saddi del futuro tra l'altro e qui per dirvi che gli scondi su keysfun non sono finiti abbiamo i nuovi scondi ma i coupon sono sempre gli stessi come si usa keysfun è molto semplice voi andate sul sito scegliete quello che vi pare la chiave di windows inserite il codice vi dà diritto a un bello sconto sappiamo che il codice probabilmente sta per saddi vi arriva per email lo mettete su windows e il gioco è fatto tutti i link stanno in descrizione quindi praticamente che succede? che ho comprato degli adattatori rack da scrivania vedete? praticamente questo qua hanno proprio i buchi come se fosse un rack e questi qua si mettono sotto la scrivania e praticamente l'idea è quella di attaccarlo qua sotto e farlo venire a scorrimento a questo punto una volta fatto questo posso anche mettere a posto quella matassa di cavi tra l'altro devo anche attaccare sotto la scrivania un raccogliicavi e niente quindi praticamente poi se non sia mai dovessi toccare con il pc semplicemente con le rail me lo tiro avanti e ciò manco un po' doveva appoggiare il braccio oddio non mi appoggerei proprio su quelle rail perché magari non so dovrebbero raggiare 90 kg però il pc già ne farà una ventina poi diventerà un macello quindi non lo farò però comunque insomma ce la farò qua sotto e disponibile praticamente per fare varie cose devo ancora decidere se metterlo a testa in giù in modo che io posso alzare la scrivania al massimo fino a metri e trenta a metterci sotto e operare praticamente come si fa come fanno i meccanici col ponte in poche parole oppure metterlo dritto e semplicemente lo apro lo tiro e faccio le cose penso che opterò per la seconda perché vanno bene le cose difficili però poi così esageriamo voi nel frattempo non stare vedendo assolutamente nulla se non il libro delle risposte libro delle risposte riuscirò a fare quello che voglio insisti e ce la farai oh perfetto ci abbiamo anche la benedizione del libro l'idea di base quindi è quella di andare a cambiare il pc ma visto che tanto devo fare sta roba qua che devo smontare tutto ho deciso che voglio passare a ddr5 non so perché ho avuto sta brillante idea di passare a ddr5 però voglio passare a ddr5 e lo farò assolutamente l'unica cosa è che per passare a ddr5 avrei bisogno della z790 ddr5 perché in questo momento sto utilizzando una z790 ddr4 ma non posso utilizzare la z790 ddr5 perché altrimenti perderei l'unica piattaforma ddr5 intel al momento che ho in casa funzionante perché sono riuscito a rompere la z790 ddr5 non so come ho fatto ma l'ho rotta tanto per cambiare di conseguenza lì ci deve forza andare un processore md infatti in arrivo del 7950x 3d che praticamente se tutto va bene mi dovrebbe arrivare sicuramente dopo l'uscita tipo i primi di marzo più un altro contenuto fantastico direttamente md stiamo organizzando un contenuto md sulla 3d cache che sarà una cosa favolosa mai fatto in italia prima ci devo mettere praticamente là dentro un coso ora lì come vedete dentro quel pc vedete questo qua qui qua qui questo pc qui dentro questo qua pc che adesso ho utilizzato per fare il test la ventola si è smontata adesso ok è caduta perché era appoggiata qui ed è caduta adesso non facciamoci troppe domande qui dentro c'è il 7950x e questa qui è una 6900xt ora la 6900xt andava bene per fare test perché erano tutti i test più intensive quindi ho dovuto ritestare in fretta e fuori il 7950x perché adesso finirà lì dentro con il dissipatore ma non con questa scheda madre perché voglio mantenere tutte le variabili diciamo esatte e quindi la scheda madre rimarrà questa e praticamente utilizzerò qui dentro il 7950x 3d poi per fare i test la scheda il processore 7950x finisce nella x670 aurus elite finendo qui dentro il processore dovrei riuscire poi a montarlo qua dentro e poi prendere da questo pc la 7900xt ficcarla qua dentro e poi ovviamente ristallare tutto quanto da capo perché ho cambiato piattaforma quindi mi devo anche disinstallare il mio bel arch che tra l'altro mi ero anche personalizzato con le icone alla cyberpunk vabbè quello è il minimo quindi bando alle ciance ciancio alle bande è arrivato il momento di mettersi a fare qualcosa e let's go cambio di programma tipo mo vi spiego un paio di cose allora praticamente qui è dove voglio montare il pc praticamente e mi sono accorto di una cosa che io ho sto AK620 bianco che non sto usando che non posso usare con intel perché ho spezzato il bracket perché sono un fenomeno e che se ci voglio ficcare quel coso la da 360 qua diventa un macello ma qualsiasi dissipatore al liquido qui diventerebbe un macello perché comunque il case non è adatto l'unica cosa è che ho tolto tutte le gabbie e adesso non ho minimamente voglia di rimettercele fortunatamente è una cosa che posso fare in secondo tempo senza dare fastidio quindi adesso l'idea è diventata l'idea è il dissipatore ad aria il 7950X che è qua dentro e che dio ce la mandi buona allora ragazzi sono cambiate un pochettino di cose nel frattempo per esempio non volevo usare queste RAM ma le userò le valente le volevo tenere per i test però dai poi a quel punto le switcho con quelle altre perché praticamente se io tolgo quelle RAM poi quando andrò a provare il 7950X 3D li proverò con le RAM che sono più forti e quindi comunque cioè sarebbe un vantaggio voglio riprodotto quale quindi al momento monto queste poi queste le passo al setup di test e quelle lì invece le porto al pc principale anche perché queste qua sono anche troppo per quello che dovrà tutto il pc in generale è troppo per quello che devo fare però comunque va così cosa figa di sto case si io le lancio le RAM scusate è che praticamente vedete questa piastra si toglie così tu puoi montare poi tacchi incastri eccetera ho provato a pulirla ma in realtà questo cioè sembra letteralmente bruciato non ho minimamente idea di che sia successo a sto case ma il fatto di averlo pagato 25 euro con un prezzo di circa 200 va bene tutto mo vedo un attimo se riesco a farvi vedere qualcosa dell'assemblaggio ma la vedo complicata tanto comunque non avete già visto più o meno assemblare un pc del genere si sono leggermente precario non ho più spazio nessuna parte non da per terra comunque visto che c'è un portello assurdo per tutti i disturbati del disordine dell'ordine eccetera eccetera ho pensato anche a voi infatti nella piastra ho messo tutte le viti che avevo si sono letteralmente impazzito ora provo a farvi vedere il montaggio all'interno del case allora nel mio setup precedente il componente che faceva più casino era proprio l'alimentatore non perché il Cooler Master SFX V750 fosse particolarmente rumoroso però essendo un SFX fanno sempre tanto casino con quella ventolina quindi sono andato totalmente overkill e avrò a disposizione il nuovo Dark Power 13 di BeQuiet 1000W 80 Plast Titanium super silenzioso ovviamente una qualità eccellente praticamente è uno dei top che si può comprare per molto tempo spero tra l'altro che rimanga spento con i suoi bei 1000W con una ventola dovrebbe permettermi sicuramente un bilancio di energia per il 7950X e la 7009 e soprattutto rimanere in silenzio che è la cosa più importante diciamo che chiunque cerca un alimentatore top di gamma questa è una scelta non dico obbligata però una sicuramente delle più corrette una scatola di pregevole fattura questo è il manuale che noi chiamiamo cartacce allora già il sistema porca già il sistema praticamente con la ventola praticamente a griglia mesh è completamente diverso da altre cose che avete visto è fenomenale si bada poco all'estetica tra l'altro è un sample di produzione cioè nel senso è proprio uno dei primi perché l'etichetta guardate si scolla però vabbè sti cavoli figo perché è figo peccato che non lo vedremo però è molto figo allora ovviamente è modulare e tra le altre cose io penso che voi l'alimentatore che si overclocka non l'avete ancora visto oggi lo vedete altra cosa interessante dell'alimentatore ragazzi è che se riesca ad aprirlo guardate che vi danno vi danno direttamente il cavo e non lo metterà mai a fuoco il cavo per la scheda invidia noi non utilizziamo la scheda invidia quindi non ci serve però sappiamo che ce l'abbiamo tra l'altro inserisco anche un cavo SATA non perché io abbia dispositivi SATA anzi ma semplicemente perché per esempio le port USB aggiuntive si alimentano col SATA quelle che ho non penso neanche di utilizzarle perché qui ne vedo una marea a questo punto ragazzi io ho già notato una cosa il pannello superiore del case con questo dissipatore qui non ci andrà mai quindi semplicemente non lo utilizzeremo spero solo che c'entri l'alimentatore e poi per il resto sono tutti problemi altrui l'alimentatore c'entra a posto beh finisco la build e torneo dopo allora adesso arriva la parte più complicata del piano che praticamente devo attaccare le rail direttamente qua sotto questo è il momento che come si dice o la va o la spacca secondo me la spacco se spacco la schivania è comunque un video epico perché sopra c'ho tutto e quindi voi figuratevi che divertimento a vedere me che mi si scassa tutto allora ragazzi è il momento della verità adesso scopriremo se questo funziona oppure no allora prima di tutto ci tengo a ringraziare MVVblog che mi ha ispirato in questa crisi ho visto lui che rimetteva a posto lo studio c'ho la legna nell'occhio e quindi è tutta colpa sua Marco ti stiamo venendo a prendere per PG peggiore del mondo sappilo vi ricordate come era lo studio olè allora beh si cammina ci sono due sedie in questo momento perché siamo in tre infatti dietro di me c'è un ale e dietro di ale c'è il rama ale forse in te mi preoccuperei però vabbè sono problemi allora che cosa è cambiato prima di tutto la schifania abbiamo tre monitor di nuovo allora voi dite non stavamo a stessa altezza sì è vero perché anche se in realtà posso utilizzarli tutte e tre per lo stesso pc in realtà ognuno fa una cosa diversa e soprattutto l'ultimo monitor grazie a questo switch che ho montato qua sotto posso comandare diversi altri computer ad esempio in questo momento è il pc in sala d'anni che sta facendo i test di dr4 contro le ddr5 e le ddr4 che stanno prendendo malamente tra le altre cose però vabbè quello è un dettaglio vedete qui sotto c'è uno switch che praticamente permette di cambiare tra le varie cose cioè vabbè diverse cose c'ho anche il comando del mac mini che adesso partirà ecco vedete e allo stesso modo può diventare terzo schermo per quanto riguarda l'altro pc vedete adesso ho prende lo stesso computer tre schermi cosa molto interessante questo mouse e questa tastiera sono tanto collegati a questo pc quanto a qualsiasi pc viene cambiato dallo switch cos'altro è cambiato adesso non ho più la QXLR che sarà rotta ma c'ho la Rodecaster Pro 2 costa veramente veramente troppo però posso fare questo e questo mi rende felice vabbè macchinetta che è tra i due schermi perché è il posto migliore per metterla si c'è lo spazio dei schermi non fa niente vabbè il microfono lo conoscete questa webcam in realtà mi serve per inquadrare questa zona sotto in modo quando in live sto facendo qualcosa qua sotto si può vedere cosa molto interessante se voglio fare delle modifiche al pc tiro questo qua si fa e poi il problema risolto quindi praticamente questo qua adesso mi apre un sacco di possibilità beh questo è ovviamente per la scrivania che si alza e si abbassa to va giù su eccetera come voglio questo è molto interessante e quindi diciamo questo noto della postazione è finito cosa c'è su questa postazione alla fine ho optato per il 7950X con la 7200 XT le RAM sono DDR4 7200 ma in realtà funzionano a 6400 perché a 7200 non ci arriva ne inutile che mi fai segno che non so lo so che non so a 7000 cioè le RAM sono da 7200 ma non ci arriva alle 2400 vabbè 5 su si era capito l'unica cosa che non mi piace in questo caso è il case perché è vero che ho detto si il case sti cavoli però questo è veramente brutto e ridotto male probabilmente lo cambierò anche perché non avendo le porte avane cioè avendo queste due USB che avevano i cavi corti praticamente se io lo apro vedete qui ci ho messo questo frontalino che però è mobile e qui c'è praticamente voi non lo vedete ma qua dentro ci sono altre due port USB buttate così a casaccia però vabbè diciamo che io mi trovo bene e questa cosa basta dopodiché ho messo anche a posto questa scrivania questa cosa diciamo in utilizzare un pochettino come jolly il vecchio pc è diventata la bench insomma vabbè il 12.9k come bench direi che va più che bene c'è una 6.800 XT perché non lo so però va bene questo qua è un Matebook che Ale vende questo Matebook a 250 euro chiunque lo volesse 3.500 euro Ale 250 euro lo vende l'importante è che non lo vede mai più in tutta la sua vita vi spiegherà lui il perché vabbè niente questo monitor in realtà è un coso è un monitor allora io devo dire una cosa ragazzi rendetevi conto che ah c'è il sistema di switch tra l'altro questo qua è l'affare infernale che mi porta l'ingresso del pc della sala d'anni qui sotto c'è un altro switch che praticamente vabbè un KVM sempre mouse tastiera e video vabbè questo qua è uno switch da 2.5 questo non ci interessa niente praticamente io con questo sistema di switch assurdi e tutti questi cavi riesco a comandare praticamente 6 pc la volta se vuoi guardare sotto sembra che c'è una selva di cavi infinita ma in realtà sono cavi per 6 pc cioè secondo me meglio di così non si poteva fare lì vedete che i cavi pendono e cadono ma semplicemente perché non posso tenerli stretti altrimenti non riesco più a scorrere praticamente il case quindi per quanto mi riguarda va più che bene per tutto questo macello di roba che ci ho messo 15 giorni per finire io devo ringraziare MVVblog perché maledetto lui anche se poi in realtà lo seguo andatelo a seguire anche voi con tutto il fatto che ha rifatto lo studio che fa tutte le cose fighe le cose strane eccetera ma ha fatto venire in mente sta idea malata quindi lui dice restate sani ma in realtà non è vero perché in realtà mi ha ammalato quindi grazie e mannaggia a te Marco detto questo ragazzi questa avventura ciclopica è finita tutto questo è nato perché io avevo bisogno del terzo monitor sono partito mi serve un monitor in più ho finito per cambiare tutto signori cosa dire fatemi sapere voi cosa ne pensate se è meglio prima cioè se era meglio prima o se è meglio adesso cos'altro dovrei cambiare non dite l'ordine perché per me è la cosa più ordinata al mondo non è mai stato così ordinata lo studio e niente lasciate un like commentate quando vi vedete e noi ci vediamo al prossimo video ciao